Ciao amici, ciao a tutti! Buonasera! Allora, stasera parleremo della 24 ore di Le Mans che è 2021, che si è appena conclusa, cioè si è conclusa ieri in realtà, perché stasera è lunedì 23. Allora, volevo parlarvi della 24 ore di Le Mans quest'anno, perché quest'anno è stata un po' diversa dalle volte scorse, dalle volte precedenti. Praticamente hanno aggiunto un po' di pepe su tutta l'infarinatura generale. Allora, praticamente so che a molti non conoscono nemmeno questo tipo di sport, comunque la 24 ore di Le Mans è una corsa storica, questa qua siamo arrivati all'89esima edizione, quindi pensate da quanto tempo la si fa. Ovviamente negli anni sono cambiati e ricambiati i regolamenti, quest'anno qua è un po' particolare perché negli ultimi dieci anni c'era un tipo di regolamento, da quest'anno, siccome molte case costruttrici erano andate via e quindi è rimasta soltanto la Toyota e una scuderia privata nell'LMP1, hanno cambiato i regolamenti, quindi abbassati i costi per fare le macchine di LMP1 e l'hanno chiamate Hypercar, che praticamente sarebbero sostanzialmente la casa costruttrice, la più potente automobile supercar che produce la casa automobilistica, la fanno poi diventare una macchina da corsa seguendo determinati criteri e regolamenti, così possono omologare la macchina e però l'automobile deve essere ovviamente avere un esemplare reale per quanto riguarda la strada, mentre invece le LMP1 erano prototipi punte basta. E negli ultimi due anni la Toyota è rimasta praticamente sola a battersi contro tutto, per infarinare un po' tutto i regolamenti, la FIA, l'ACO hanno deciso di cambiare questo regolamento e farle Hypercar. Allora quest'anno, quest'anno hanno stravinto le Toyota, le due Toyota, perché comunque loro appena avevano iniziato a parlare di cambio di regolamenti, loro avevano già da due anni il prototipo della macchina, perché probabilmente erano lungimiranti e avevano già fatto la macchina, quindi sono arrivati, hanno praticamente spaziato, fatto quello che volevano, eccetera eccetera. Poi c'erano l'Alpin, che praticamente discutendo i suoi regolamenti che sono riusciti a prendere il vecchio LM P1 della Rebellion Racing, hanno acquisito il prototipo, ovviamente l'hanno regolarizzato per poter competere con le Hypercar. Per quest'anno qua hanno fatto questa sorta di compromesso, in modo che anche l'Alpin, la Renault, potesse riuscire a competere nella massima categoria con questo vecchio prototipo dell'anno scorso. E poi c'erano le Glickenhaus americane, che hanno fatto comunque anche loro un'ottima gara. E poi deve esserci anche un'altra casa tedesca, che poi alla fine, non so per quale ragione, non hanno corso. Comunque praticamente, avendo corso già quest'anno, sia la Toyota che la Glickenhaus, saranno molto vantaggiate per la prossima 24 ore, in quanto hanno già... Tanti regolamenti sono questi, per un po' di anni andranno avanti così, quindi loro sapranno già più o meno come muoversi per le soste. Cioè, hanno già avuto un primo massaggio di gare, quindi sicuramente saranno vantaggiati per la prossima gara. La 24 ore di Le Mans fa parte di un campionato FIA GT che sono 6,20 tutto quanto, ma la 24 ore è ovviamente quella più... perché la fan da 90 anni, da 89 perché è la più famosa, eccetera, eccetera. Anche se molti ancora non la conoscono, quest'anno c'era molta più gente a guardarla. L'ho notato perché devo ammettere e fare un grazie a Toyota, Glickenhaus e Alpine perché hanno dato la possibilità di seguire la gara in Todos da on-board dalle loro macchine, sia l'Alpine, le due Glickenhaus e le due Toyota. Allora, un piccolo mio coso che posso dire, un mio parere personale, guardando quasi tutta la gara, saltando da un video all'altro su YouTube, ho visto che la Toyota era proprio avanti, secondo me era uno o due anni avanti, lo sentivo proprio dal motore che non era mai sotto sforzo e andava sempre bene, eccetera, eccetera. Cioè, lo sentivo proprio che era un motore pulito, si sentiva bene. Per quanto invece riguarda l'Alpine, è andata fino in fondo, è arrivata terza, ha fatto terza al primo tentativo, quindi gran risultato, ottimo per la Renault che comunque si cimenta praticamente in tutte le competizioni, sono arrivati terzi, lo ripeto. Però si vedeva il loro prototipo della Renault, aveva solo sei marce, e si sentiva durante la marcia, cioè si sentiva chiaramente dal motore, che era un motore più sotto sforzo rispetto alle Toyota, che comunque erano più, classico Toyota, erano molto più, cioè, proprio sciolte, hanno proprio vinto a man basse, diciamocelo chiaramente. Solo all'inizio, solo all'inizio, l'Alpine è riuscita a tenere il passo della prima Toyota, che è scappata via, ma l'Alpine è andata dietro, però c'è la pioggia, casini vari, eccetera, eccetera, l'Alpine ha avuto dei problemi e ha perso terreno, comunque sono arrivate a 4 giri dalla prima Toyota, a 2 giri dalla seconda, mentre invece le Glickenhaus hanno avuto un po' più problemi, infatti per svariato tempo di gara sono state addirittura dietro alle prime due delle LMP2, la seconda categoria, che vanno molto meglio delle Hypercar, e infatti avendo problemi, per molto tempo sono state dietro. Però poi alla fine si sono riprese, addirittura una delle due, la prima delle due di LMP2, la prima che doveva arrivare prima a vincere la sua categoria, purtroppo a 3 minuti dal termine della gara ha avuto dei problemi, si è fermata e così ha dovuto lasciar passare. Comunque, in genere, dopo aver ringraziato le 5 case principali per aver fatto i video su YouTube in diretta, così tutti quelli interessati potrebbero seguirla, un grazie all'ACO e alla FIA per lo spettacolo regalato, a tutte le squadre che hanno partecipato alla gara, eccetera, eccetera, non vi sto a parlare anche delle altre categorie, perché diventa il video troppo lungo, vi ho solo dato un'infarinatura generale, sono contento di averlo fatto, sono contento di aver parlato della 24 ore di Le Mans, che spero che man mano che passi il tempo la gente si appassioni sempre di più, perché a mio giudizio è lo sport motoristico più bello che ci sia in assoluto, anche un filino più della Formula 1, però anche la Formula 1, tutti sono belli sport motoristici a livello di gare, ma secondo me l'endurance ha qualcosa in più da regalare per gli appassionati, diciamo. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima, da Mystery Man è tutto, dal passo del bracco e dalla curva delle conticchie, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, 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 ciao.